I primi effetti del decreto sicurezza sulle auto straniere che circolano in Italia, un fenomeno in forte espansione negli ultimi anni che ha provocato diversi problemi sotto il profilo del pagamento delle tasse di circolazione, dell'assicurazione e dell'eventuale risarcimento danni in caso di sinistri. I carabinieri del comando provinciale di Nuoro hanno intensificato i controlli ed effettuato un fermo amministrativo di un veicolo immatricolato all'estero ma condotto da un giovane sardo. L'intervento è stato effettuato dai carabinieri, dalla compagna di Ierzu e dalla stazione di Nuri che hanno fermato per un controllo un giovane del paese la cui auto è risultata immatricolata in Germania. Sulla base di quanto previsto dalla legge 132 del 2018, chi risiede in Italia da almeno 60 giorni non può circolare con un'auto immatricolata all'estero, i militari hanno contestato all'automobilista la violazione dell'articolo 93 del codice della strada. È stato applicato anche il fermo amministrativo del veicolo fino al pagamento dell'infrazione e il conseguente ritiro della carta di circolazione. Il proprietario dell'auto avrà sei mesi di tempo per immatricolare il veicolo in Italia o chiede il rilascio di un'autorizzazione per poterlo condurre oltre confine dove poterlo vendere o cedere a terzi. Trascorsi 180 giorni, qualora non abbiamo temperato una delle due opzioni, scatterà la confisca dell'auto.